Buongiorno, buon martedì 29 novembre, benvenuti all'appuntamento quotidiano con la rassegna stampa di Omnibus News, tra poco andremo a leggere assieme le prime pagine non solo dei quotidiani in edicola, naturalmente tiene ancora a banco la tragedia dell'isola di Ischia, di Casamicciola, ieri è rinvenuto l'ottavo disperso, l'ottavo purtroppo l'ottava vittima, si tratta di Michele Monti, il quindicenne, erano già stati rinvenuti i corpi dei due fratellini, si cercano i genitori, sono ancora quattro i dispersi che in queste ore freneticamente, in maniera estremamente intensa, i soccorritori stanno cercando di individuare e trovare sotto il mare di fango che appunto ha creato questa grande tragedia, una tragedia che ha scatenato inevitabilmente anche le polemiche in ambito politico, è tornata ovviamente la battaglia verbale sull'abusivismo, sui condoni, si fa riferimento a un decreto del 2018, il cosiddetto decreto Genoa, durante il governo Conte, che aveva dato la possibilità a dire dell'ex Premier di semplificare determinate procedure di regolarizzazione degli immobili, tant'è che questo ha scatenato certamente la bagarre sul piano dialettico ad accrescere anche la tensione, le parole del Ministro dell'Ambiente, Pichetto Fratin, che ieri aveva parlato di carcere per i sindaci che non adempiono alle loro mansioni, cosa questa che è stata fortemente contestata, sia sul versante strettamente politico, parlamentare, sia sul versante anche dell'Anci, dell'Associazione Nazionale dei Comuni con il Presidente De Caro che ha risposto in maniera molto secca. Poi vedremo sul Corriere della Sera un'ampia intervista a Giorgia Meloni, alla Premier, che difende appunto le scelte della manovra che inizia l'iter parlamentare. Noi invece iniziamo la lettura dei giornali a partire dal Corriere della Sera, questo governo durerà, eccolo qui, il lancio appunto dell'intervista alla Premier, la manovra sostiene fragili, eccetto, medio, non va stravolta, un mese a Palazzo Chigi, il reddito non ha funzionato, piano per il clima, non ritiro le querele. Per quanto riguarda le misure, obbligo solo oltre i 60 euro, ora l'esecutivo frena sulla posa, la misura in campo, anche la Unione Europea, questo è un nodo che va ovviamente sciolto nei confronti di Bruxelles. A centropagina trovata l'ottava vittima, tensione tra ministri sulle responsabilità dei sindaci, case abusive, SOS inascoltati, così Ischia Frana. Guido Santevecchi invece nel suo editoriale si approfondisce il tema legato alle proteste che si stanno verificando in Cina, proteste contro i lockdown, le restrizioni per il Covid, la cosiddetta politica del Covid, zero Covid, il Covid che scuote la Cina, errori e proteste. Di spalle i resti di Saman, corpo integro, con i vestiti, di quando sparì le indagini a novellare, è stato appunto rinvenuto il corpo, adesso sarà l'autopsia, col conseguente ovviamente esame del DNA, a stabilire se si tratta realmente, ma insomma tutto lascia pensare che si tratti proprio dei resti della giovane pakistana sparita un anno e mezzo fa e con ogni probabilità, anzi quasi ormai certamente, soppressa dalla propria famiglia. Il partito del condono, scrive la Repubblica, dall'abusivismo al fisco, dietro il dramma di Ischia, il fronte trasversale delle sanatorie. Polemica sul ministro Pichetto che vuole il sindaco in galera, il governo riduce le risorse per la lotta all'evasione, il tetto all'obbligo di pagamenti elettronici, apre uno scontro con l'Unione Europea. Meloni, PNRR a rischio, fitto, rivedere a ribasso il piano delle opere. Centropagina, gennaio, l'elezione dei nuovi vertici, ieri sera in tarda serata si è scatenata una specie di bufera sulla Juventus perché si dimettono Agnelli e tutto il Consiglio dell'amministrazione. La svolta bianconera, John Elkan e il cugino Andrea Agnelli che ieri ha lasciato la presidenza. Parliamo anche di mondiali, lo facciamo appunto prendendo spunto dal memo che ci fa Repubblica. Si gioca USA-Iran, tra calcio e politica, la partita della storia. Scusate, la stampa, ecco qui, con tante PNRR, scontro con l'Unione Europea. Il Governo frena sull'obbligo del posto sopra i 60 euro, opzione donna, la maxi stretta. Sulle pensioni per Bruxelles e l'Italia non rispetta i patti del recovery. Meloni, mi assumo tutte le responsabilità della manovra. La frana di rischia, bufera, abusivismo, pichetto, i sindaci vanno arrestati e Salvini lo attacca. Come detto, insomma, la polemica si è sviluppata a livello proprio parlamentare e anche oltre. Il reportaggio, nonno Michele piange, tutta la mia famiglia ingoiata dal fango. Centro pagina, dopo l'inchiesta sui bilanci, si dimette il CDA. Scanavino, nuovo direttore generale, la Juve. Volta a pagina. E Antonio Barillà scrive, Andrea Agnelli, trionfi e rimpianti. E noi ci fermiamo qui con la prima parte della nostra rassegna stampa, pubblicità e poi proseguiamo assieme la lettura dei quotidiani. A fra poco. Dirò buongiorno a seconda parte della nostra rassegna stampa. Siamo sul giornale, colpa dei sindaci, così apre il giornale, la tragedia di Ischia. Il ministro Picchetto Fratin non retrocede, sostituire subito chi in 12 anni non ha speso i soldi. Scoppia la polemica, ma Salvini appoggia la rivolta dei comuni. Taglio centrale, il Papa, russi crudeli, Mosca, perversione, conflitto in Ucraina e le tensioni diplomatiche. Papa Francesco che ha aperto alla possibilità appunto di agire da intermediario per arrivare ad una soluzione pacifica. In taglio basso si parla di manovra, scoppia il caso del Bancomat, il governo valuta la marcia indietro, l'Unione Europea perplessa sul tetto al post, Meloni non va disturbato, chi produce. Lasciamo il giornale, andiamo a vedere come apre il messaggero. Ecco qui Ischia, i 23 allarmi ignorati, PM puntano sulle mail dell'ex sindaco di Casa Micciola, che guarda caso si chiama anche lui Giuseppe Conte. Scrivevo di evacuare, nessuno si è mosso, effettuato solo il 2% delle demolizioni disposte. Picchetto, arrestare i primi cittadini, Salvini li difende. In taglio alto, Meloni difende la manovra. La fotonotizia ci racconta una tragedia avvenuta a Terni, ucciso nella rissa, voleva mettere pace. Tragica fine del tunisino, rida, lascia tre figli piccoli, caccia al killer. E' stato ucciso a calci e pugni. Il fatto quotidiano, ecco chi ha favorito l'abusivismo. A Ischia, dati e fake, si attacca Conte per tacere le colpe di politici e cittadini. L'ex sindaco, sgomberate tutto, ma in vano. Tutte le colpe di regioni, comuni e partiti. Il professor Paolo Pileri, del Politecnico di Milano, una frana ogni 45 minuti, e si continua a cementificare. Cosa fanno i sindaci? Ma fu un brutto segnale agli abusivisti. Quello del Conte 1 non era un condono. Lavori in 60 case per quelli di Craxi. E B, B, puntato, sta per Berlusconi. Libero. Sul reddito e non solo. La Meloni tira dritto. Sui disoccupati non torna indietro. Siamo qui per fare ciò che è giusto, non quello che ci porta più voti. Dalla parte dei negozianti, l'obbligo di usare il posto è un obbligo a smenarci. Le rivalutazioni blocchate, ma occhio a giocare con i nostri pensionati. L'editoriale del direttore Sallusti, Ischia, il ministro Furioso, la retata dei sindaci. Non salverà l'Italia. Così libero. Andiamo al foglio. Vi leggo il titolo dell'editoriale del direttore Claudio Cerasa. La frana dei soldi europei perché il caso Ischia è un far acceso su un dramma italiano. L'incapacità di utilizzare i finanziamenti europei. Centrale frane, sì. Progetti svolte necessari. Un guaio di spesa del PNRR. Un colloquio con il ministro Fitto. Così il foglio. Vediamo il domani. La politica tace le responsabilità condivise della tragedia di Ischia. Dopo ogni disastro sull'isola riparte l'inutile ricerca di un'unica causa che spieghi le ragioni dell'accaduto. Ma i dati sul territorio e l'eredità del terremoto del 2017 dicono che nessuno degli attori politici è senza colpe. Ancora una prima pagina. Avvenire. Un luogo per la pace. Il Vaticano si propone come sede dei negoziati. Il Papa pronto a mediare ma ho ben chiaro chi è l'aggressore. Mosca prima apre alle trattative e poi attacca Francesco. Arrestati intanto due preti nel Donbass. Ancora raid sui civili. Ischia, otto vittime e bufera politica. E qui vediamo una foto appunto che ritrae i soccorritori impegnati. Sono stati impegnati anche per tutta la notte nella ricerca dei quattro dispersi. E soprattutto con il rischio che il maltempo, ma tra poco sentiremo Paolo Corona, possa tornare a creare ulteriori disagi. Il manifesto, la montagna incartata, la prevenzione promessa dopo ogni precedente alluvione non c'è stata. I canali sono rimasti ostruiti da casa a rischio. C'è un nuovo allarme, dice il geologo che è salito in cima alla frana. La procura indaga per disastro colposo e sulle denunce inascoltate dell'ex sindaco. L'ite tra Salvini e Pichetto Fratin sulla responsabilità dei sindaci. Conte scansa le accuse con loro. La verità, le manovre per salvare il vaccino obbligatorio. Così la verità apre. E poi a centropagina Tommasi caccia il manager che fa risparmiare 50 milioni al suo posto, un ex deputato PD. Siamo al tempo, un miliardo agli statali. Quindi, scusate, rimettiamo la pagina. Vediamo se riusciamo. E oggi è una giornata così. C'è qualcosa che non va nel nostro... Allora, lasciamo il tempo, andiamo alle altre pagine. No, c'è proprio un blocco. Evidentemente, oggi è una giornata sfortunata. Vediamo se riusciamo. Niente, non c'è modo. Allora, andiamo come si faceva una volta, col cartaceo, perché voglio farvi vedere il Corriere della Sera, che pone come argomento principale l'intervista alla Premier Giorgia Meloni, a pagina 2 e a pagina 3. È un'amplissima intervista. Con questa manovra ha mantenuti gli impegni, così difendiamo lavoratori e famiglie. La premia era approvata dai leader, escludo venga stravolta, ad alcune ONG attività ideologica che aiuta gli scafisti. Il rapporto con Salvini è costante e continuo. Certe posizioni che possono sembrare ristoniche non mi preoccupano. Calenda, non penso, alla maggioranza serva allargarsi. E ancora su Ischia c'è tantissimo lavoro da fare, ogni euro investito sul territorio e per dare più sicurezza ai nostri figli. Mi fermo qua per ovvi motivi di emergenza. Anticipiamo l'appuntamento con Paolo Sottocorona, al quale chiedo, Paolo, c'è molta preoccupazione a Ischia, perché il maltempo potrebbe tornare a creare grossi problemi. Grazie Roberto, buongiorno. In realtà, facciamo una distinzione, c'è la teoria e c'è la pratica. La previsione vedrete fra un attimo che sembra, non sarei per dire misericordiosamente, risparmiare quelle zone, mentre intorno il maltempo ci sarà di nuovo. E speriamo che sia così, ma sapete, piccoli spostamenti e in quella zona basta che piova anche poco per creare comunque, non magari rischi, ma sicuramente problemi per chi sta lavorando. La situazione generale. Troviamo molte nuvole. La traccia dei temporali è fra, vedete, Corsica, Sardegna, Sicilia e questa fascia. E questo era quello che ci si aspettava, perché la perturbazione vera e propria è quella che sta passando al nord. Al sud dovrebbe essere la coda della perturbazione, cioè la parte più debole, quella terminale, e invece è piuttosto intensa, quindi non è esattamente questo. Ci sono delle piogge, a parte dove vedete i temporali, ovviamente ancora in Sicilia, ancora al nord, non sulle zone del centro. Vediamo allora la previsione per tutta la giornata di oggi. Vedete che c'è questa striscia sottile del medio-basso versante tirrenico, che comprende anche il Golfo di Napoli, in cui non sono previste piogge. Intorno ce ne sono molte, ecco perché dicevo, poi basta poco perché qualcosa si sposti un po' da questo binario. Però i fenomeni intensi, vedete, partono da Corsica, Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata. Ci sono delle piogge anche al nord, piogge o nevicate sulle zone alpine, ma più deboli o localmente moderate che altro. Lo stesso vale per il versante adriatico, quindi il nucleo più intenso per oggi è questo. Vediamo la giornata di domani. Si sposta questo nucleo di maltempo a prendere soprattutto le zone ioniche, la Calabria, con quantità molto elevate di pioggia, anche quella sappiamo che è una zona abbastanza vulnerabile, la Basilicata. E ancora una volta il Golfo di Napoli resta un po' a margine, è vicino al maltempo, non dovrebbe esserne interessato direttamente. Arriviamo alla giornata di giovedì, in cui tutto questo maltempo si attenua, restano fra Sicilia e Calabria, essenzialmente delle precipitazioni localmente intense, ma complessivamente il maltempo è molto più debole, molto più rarefatto al nord, si continua con qualche debole pioggia, lo stesso vale per il centro. Ma vedete che ancora una volta la zona critica in questo momento di Ischia è proprio molto vicina al maltempo, senza esserne teoricamente direttamente interessata e speriamo che così vada. Chiudiamo con il quadro delle temperature minime, sempre piuttosto basse, soprattutto al nord i valori sono direi decisamente sotto la media, ma questo vale in questo momento un po' per tutte le regioni, per le minime e anche per le massime in realtà, e lo stato dei mari che si presenta piuttosto forte, molto forte, a largo di Corsica e Sardegna, vedete abbiamo mari agitati o molto agitati, quelli interni mossi, localmente molto mossi, i canali fra le isole maggiori hanno ancora un moto ondoso più sostenuto, più debole invece il moto ondoso sull'Adriatico. Se volete noi ci vediamo intorno alle 7.55, adesso pubblicità e poi la prima edizione del nostro telegiornale con Roberto Bernabai, da più tardi.